custom è nata 31 anni fa dalla voglia di alcuni ragazzi allora molto giovani 26 anni senza grandi risorse economiche di creare delle soluzioni io venivo dall'esperienza di una multinazionale alberto mio socio il genio che sviluppava all'interno di un garage le schede elettroniche oggi siamo una multinazionale che copre circa 70 paesi abbiamo cinque stabilimenti nei principali continenti e con noi collaborano circa 700 persone siamo partiti 13 anni fa con SAP che allora sembrava uno strumento forse anche sovradimensionato rispetto alla nostra esigenza ma è stato invece lo strumento determinante per una crescita comparta sicura e soprattutto finalmente fornendoci dei dati per poter fare delle scelte future molto attendibili ed efficaci oggi stiamo lavorando a un grande progetto di trasformazione e per questo abbiamo scelto rise with SAP vogliamo cogliere questa occasione per rivedere tutti i processi aziendale e cercare di adottare lo standard SAP in modo da poter sfruttare le best practice internazionali e continuare ad evolvere insieme alla tecnologia l'esperienza di più di dieci anni con SAP ci ha resi più maturi e più esigenti avevamo bisogno di un partner con cui confrontarci derga si è dimostrato un interlocutore capace di offrire soluzioni di discutere con noi e insieme abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di trasformazione il tutto in sicurezza abbiamo bisogno di velocità abbiamo bisogno di una trasformazione digitale agile disponibile a tutti e che sia facile da utilizzare oggi il dato ti permette di fare delle scelte in tempo reale la scelta di SAP S4ANA che ha queste caratteristiche queste esigenze cioè di velocità disponibilità e soprattutto è un prodotto cloud quindi in qualsiasi parte del mondo con qualsiasi dispositivo posso analizzare le mie strutture e i miei dati e attuare delle scelte che come ripeto devono essere fatte oggi in tempo reale SAP S4ANA e il cloud ci offrono un sistema always on a cui si può accedere sia da desktop che da mobile in tutto il mondo questo ci assicura una business continuity che per noi è un'esigenza critica e fondamentale stiamo lavorando a funzione di configurazione di prodotto per semplificare la gestione della produzione esaltando quindi la nostra vocazione per l'innovazione e la personalizzazione ma soprattutto per dare un servizio ancora più innovativo al cliente questa sarà la castro del futuro e sicuramente grazie a questo strumento riusciremo a ottenere i nostri obiettivi nei tempi che siamo dati grazie a tutti 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 grazie a tutti